Cosa hanno detto di loro? ...internazionali... ...uno internazionale dei test... ...international convention... ...Brasile... Commerzio da Franca... Un giornale ha riferito. L'organizzazione dei testimoni di Geova è davvero eccezionale. I luoghi in cui si radunano sono sempre puliti. Tutto è ben organizzato. Quando le loro riunioni si concludono, il locale è più pulito di come l'hanno trovato. Durante i discorsi c'è assoluto silenzio. Nessuno urta o spintona gli altri. Regnano le buone maniere. La loro è veramente una religione ordinata. Sanno cosa significa adorare Dio. Commerzio da Franca... I testimoni di Geova sono fermamente convinti che il Creatore conosce meglio di chiunque altro i principi da cui gli esseri umani dovrebbero farsi guidare. Isaia 48, 17 e 18. Pertanto, quando vengono ilogiati a motivo della loro condotta, danno il merito a Lui. In Matteo 5, 16, Gesù disse... Risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre eccellenti... E' un'internazionale dei test... ...until 5 con... ...international convention. ...e' un'internazionale dei test...